Silvione, ma a me perché non mi pigli, maledetto, dov'è? Lei, prega quella, mi piace poco fisicamente Silvione Silvione, perché non diventiamo gai e ce ne andiamo in Puglia? In Puglia, Lecce, Taranto, Foggia, eh? Ma è che viene chiede, si fa in tre menaggio a trovare... Eh? Così c'è rete quattro menaggio a trovare Italia 1 Silvione, lo vorrei baccare, proprio nella bocca, dov'è? Silvione, Silvione, dove sei? L'ho presa stasera, erano anni! Al tuo posto Silvio! Al tuo posto Stai attento a quello che firmi, eh? Guarda cosa c'ho qui, eh?